Ciao a tutti, ciao a tutti, ben ritrovati amici rossoneri qui su Milanello, il nostro canale YouTube dedicato al Milan. Che giornata, quante novità e vi voglio dare subito un'indicazione che mi segnalano da San Siro un cielo nuvoloso, ma molto nuvoloso, che non promette nulla di buono. Nel senso che dovrebbe venire giù un bel battirone, come si dice dalle mie parti, e questo ci fa tornare alla mente la partita perfetta, con tanta 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 pioggia. È un segnale? Oppure no? Chissà, noi ve lo riportiamo, ci piace sognare, siamo anche degli inguaribili romantici qui su Milanello, e una delle serate più belle, una delle partite più belle del nostro Milan del recente periodo, anche se sono passati quasi 15 anni. Ricordiamo anche il meteo, ricordiamo ogni minuto di quella partita e soprattutto la pioggia. Chissà, chissà, si sta preparando il cielo di San Siro ad accoglierci e ad aiutarci stasera. Lasciate un like ragazzi per un bel Forza Milan tutti insieme, iscrivetevi qui, mi raccomando, attivate anche la campanella per non perdere nulla sul mondo del Milan, mi raccomando, più video ogni giorno. Vi diamo un aggiornamento importante, per certi versi clamoroso, perché vi dovete tenere forte. Insomma, se passiamo oggi, compiamo un'opera straordinaria, ma la definirei davvero impresa. Per come eravamo messi all'andata con tutte quelle assenze, per come siamo messi oggi con tante 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 assenze. Allora, sapevate che c'era un po' di incertezza attorno ad alcuni giocatori che hanno fatto questa mattina una sorta di test definitivo e non è stato superato. Quindi abbiamo fuori Calabria, abbiamo fuori Romagnoli, abbiamo fuori Rebic, abbiamo fuori anche Leao. Forse mi sono dimenticato qualcuno, spero di no. Quindi non recuperiamo nessuno dei giocatori, soprattutto abbiamo in attacco una situazione di emergenza incredibile. Ci sono però delle sorprese in generale anche in altri reparti di formazione. L'unico vero attaccante è Zlatan Ibrahimović, che però è fuori ormai da diverse settimane. E considerato che domenica c'è anche una gara importante contro la Fiorentina alle ore 18 fondamentali, si affronteranno anche Napoli e Roma. Quindi per i primi quattro posti è un discorso molto importante. Ebbene, la novità riguarda intanto la punta. Perché Ibrahimović non viene riscatto dall'inizio, Ibrahimović avrà massimo un tempo. Massimo, 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 massimo proprio un tempo. Non lo si fa partire dall'inizio, va in panchina. Adesso vi dico chi gioca, tenetevi forte. Però quest'anno, nelle emergenze, nelle difficoltà, siamo riusciti sempre a rimanere a galla e a fare vedere le cose migliori. Quindi non partiamo rassegnati perché non è un atteggiamento che ci appartiene. Devo ricordare anche che pronti via, fischio d'inizio, loro devono fare gol altrimenti sono fuori. Quindi non dico che si debba ragionare anche su una partita a livello difensivo per cercare di non prenderle. Perché poi se fai così ne prendi anche tante. Però noi abbiamo le nostre carte da giocare sicuramente e bisogna gestire le varie fasi della partita. Gioca, poi vi dico l'altra novità di formazione, gioca Castieco numero 9. È inutile che mi guardi così. Sì, sì, ce l'ho contente, è inutile. Gioca Castieco numero 9, falso 9 perché non è un vero 9. Un po' leggerino anche. Io ipotizzavo ieri Brian Diaz, evidentemente la scelta ricade su Castieco. Dobbiamo farci una ragione, tifare Castieco tutti insieme stasera, con poi Ibra che entrerà nel secondo tempo evidentemente. Leao non ha recuperato, lo stesso Rebic ha ancora problemi all'anca. Quindi bisogna inventarsi la formazione ennesima, la formazione stagionale. Non sono disperato perché, ripeto, il Milan va oltre le assenze e dove non ci sono i giocatori c'è il gruppo a fare la differenza. Speriamo che basti stasera. Con l'asterisco che è l'andata avremmo dovuto vincere 2-1 perché c'era quel gol clamoroso che ci è stato annullato ingiustamente. Quindi partiamo dall'attacco e veniamo dietro perché ci sono, vi dicevo, altre novità. Castieco, Saremakers, Cialanoglu, Krunic. Un attacco un po' diverso, senza grande peso, che però può non dare riferimenti. E questa è una carta che possiamo sfruttare. Aggiungo la cosa che non mi fa disperare. Parliamoci chiaro. Contro il Manchester United l'andata abbiamo fatto 1-1. Senza attaccanti. Stiamo andando avanti da diverso tempo senza attaccanti perché Leao non sta facendo l'attaccante. Cioè è lì, ma lo fa malissimo. Peggio di così, non credo che Castieco lo possa fare. Magari potrà sfruttare altre risorse. E, ripeto, non dare punti di riferimento. Arretriamo. Quindi questi sono i quattro davanti. Con in panchina può entrare Diaz. No Auge perché non è in rosa. No Mandzukic perché è fuori. No Rebic, no Leao. Questi sono. Ibra però c'è in panchina. E se serve entra. Ma in ogni caso credo che entrerà. Dietro. Che si è mai te. Che con la loro fisicità possono fare molto bene come hanno fatto giovedì scorso. Possono magari provare a inserirsi con che si che andava a fare anche il trequartista. Se non l'attaccante ha giunto. E possono proteggere me bene e fare un po' da scudo anche alla difesa e quindi alla porta. Nell'idea che se non prendiamo gol oggi siamo passati sicuramente. Ecco questa è una regola fissa. Stasera se non prendiamo gol passiamo. Vediamo come va. Loro tra l'altro hanno fuori Marziale. Hanno fuori anche Cavani che ieri ha avuto una ricaduta. C'è però Rashford che è sicuramente il pericolo numero uno. In panchina Benasser è lo stesso Tonali come da programma. Dietro. A sinistra Tevernandez. C'è Tomori con Kier. Che sono una coppia ben assortita. Romaglioli dunque neanche in panchina. Kier ha riposato nell'ultima partita proprio per essere preservato in vista della gara di stasera. A destra. Novità. C'è Kalulu e non Dalò. Dalò che obiettivamente fa meglio. Non si capisce perché. Perché lui ha sempre giocato sulla destra. Fa meglio sulla fascia sinistra. Kalulu è più difensivo. È più difensivista. Ci può stare come scelta. Anche perché insomma è un nostro giocatore. Quando l'abbiamo impiegato ha sempre fatto bene. Vediamo se scende anche la pioggia come segnale divino. E viviamoci questa giornata ripeto senza essere spaventati, rassegnati. Non è l'atteggiamento che ci appartiene ragazzi. Quindi forza Milan oggi più che mai. Domani ancora di più. In tutto questo un aggiornamento perché Inter stasola è stata rinviata. Perché ci sono i positivi. L'ATS ha bloccato la seconda squadra di Milano in uscita. Nel senso non fa uscire da Milano. E quindi siamo alle ATS che decidono. Peccato che insomma in altre situazioni al Milan aveva una situazione. Scusate la ripetizione. Decisamente peggiore. E le ATS non hanno fermato nessuno. Non hanno bloccato partite del Milan. Che ha giocato con tanti 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 più assenti rispetto a quelle che ha oggi. la squadra di Conte. Comunque oggi dedichiamoci al Milan. Un forza Milan tutti insieme. Voglio tanti tanti like. Formazione rivoluzionaria. Tante sorprese. Ma siamo il Milan. Abbiamo il 7 sulla spalla. Ricordiamocelo tutti. Iscrivetevi qui. Attivate anche la campanella. Domani mattina le pagelle sperando che siano delle belle pagelle. Un abbraccio ragazzi. Forza Milan. E che scenda giù la pioggia. Ciao.